non vi piace Ah 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 Questo qua E' vero che lio Se lo fai bene no, non ho fatto l'idea, non lo fai più da capire ma vabbè, non lo fai più da capire ma io non sono piano quindi è di qua, su di lì il stronco, in mezzo ai due sassi fai dei sassi giù a destra, fai il sasso piatto e poi? ma dentro, o quelli lì? è su di lì? si, non c'è tanto l'acqua via guardi, guardi lì 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 di lì? guardi lì ok, dai ho capito bravo Mau, è una garanzia scendi bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.